Un saluto a tutti gli amici di Nexus Lab e Oppo Fans Italia. Ben trovati per questo video unboxing italiano di Oppo Find 5 X909, l'ultimo smartphone realizzato dalla giovane casa cinese Oppo. Stiamo parlando di uno smartphone con un display da 5 pollici e una qualità davvero eccezionale perché si tratta di uno schermo GDI con una risoluzione 1080x1920 Full HD e una densità di 441 ppi. Per quanto riguarda il processore che viene montato su questo Oppo Find 5, è un Qualcomm Quad Core da 1,5 GB, 2 GB di RAM e una GPU Adreno 320. Andiamo a zoomare un pochino per migliorare la visuale. Vediamo la scatola principale, al cui interno troviamo lo smartphone come prima cosa. Pur essendo un 5 pollici, questo smartphone ha una buona maneggevolezza, non è difficile da utilizzare per le sue dimensioni. Poi troviamo un pacchettino con la manualistica in cui Oppo ha inserito due tag adesivi NFC che è possibile utilizzare, un manualetto, diciamo una guida informativa sulle caratteristiche e le informazioni della manutenzione per smartphone e accessori. Mentre all'interno della scatola troviamo un adattatore USB per ricaricare il telefono con la presa a muro. Purtroppo non è nel nostro standard, quindi ne servirà un altro oppure un secondo adattatore per poterlo far funzionare. Andiamo a vedere anche le cuffie auricolari con il classico jack da 3 mm e mezzo. Vediamole un po' più da vicino. A primo impatto sembrano ben realizzate e ben rifinite. In seguito le testeremo meglio e vi sapremo dire anche a livello qualitativo il suono come risulta. Infine troviamo un cavo USB micro USB classico da utilizzare con il computer. La scatola presenta una banda magnetica laterale che permette una chiusura migliore del box. Come dicevamo, pur essendo un 5 pollici, la maneggevolezza di questo telefono non è affatto male. Diamo un rapido sguardo sia nella parte frontale che nella parte posteriore. Troviamo una scocca in materiale plastico molto rifinita. Sulla parte laterale destra troviamo invece i tasti volume. Sopra la connessione per il jack da 3,5 mm. Dietro la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED. E invece sul lato sinistro troviamo il tasto accensione e lo slot per la micro SIM. Adesso il rito della rimozione della pellicola protettiva originale. Ecco qua. Lo splendido display full HD 1080x1920 di Oppo Find 5. Andiamo a dare proprio un'occhiata velocissima alla user interface dove è stata già installata una versione alfa della traduzione italiana che stiamo seguendo per Oppo. Ecco qua. Con questo possiamo concludere il video unboxing. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video dedicato dopo Find 5. Grazie a tutti.